Ciao, sono Davide De Marinis e voglio mandare un grande saluto alla mia amica Alessia e poi augurare un buon compleanno alla rivista Almax che compie 12 anni. Grazie intanto in anticipo per il sostegno che state dando al nostro progetto, al nostro video e canzone Mi Sono Rotto. Canzone cantata splendidamente dai miei amici Andrea Gresti, Claudio Lauretta e dal sottoscritto e che spero possa sollevare e portare un po' di ironia e spensieratezza in questo momento obiettivamente abbastanza complicato. Un bacione a tutti dal vostro Davide De Marinis. Ciao.